Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questa prima conferenza del ciclo Visions. Io sarò molto breve anche perché sono particolarmente contento di chi farà questa prima conferenza, dirò soltanto due parole su questo, però lasciatemi dire due parole su che cos'è questo programma Visions. Molti di voi sapranno, perché ormai sono due o tre anni che questo avviene alla scuola, avranno sentito parlare o partecipato a conferenze del progetto VIS, che è il progenitore di questo nuovo progetto, che ha portato una serie di attività estremamente importanti, a parte le conferenze, un giorno da ricercatore e quant'altro, che verranno integrate in questo nuovo programma, la cui cifra fondamentale è quella di riunire, mettere insieme e confrontare tra di loro le due anime della scuola, ma un po' le due anime più in generale, che riguardano da un lato le scienze dure e dall'altro le lettere, i humanities o come le volete chiamare, superando il concetto di due culture, che diciamo è un concetto tradizionale, per cercare di dimostrare che la cultura è unica e complessa, parla linguaggi diversi, ma cerca di affrontare problemi sempre più complessi e comuni, con una visione sempre più larga. Il passaggio da VIS a VISIONS dovrebbe essere questo tentativo, non so se ci riusciremo, perché è un tentativo ambizioso, siamo abbastanza certi del successo delle singole iniziative, perché grazie soprattutto al dottor Valdes, che è qua, che è l'animatore di VIS, insieme al coordinatore che è il professore Andrea Ferrara, integrati adesso dai colleghi di lettere, Francesco Morosi, Serena Pezzini e Elisa Guidi, che non hanno voluto parlare, perché io avrei preferito che dicessero due parlore loro, ma diciamo sono stato incastrato a parlare anche per loro. Sono sicuro che porteranno a iniziative di successo, ma soprattutto a una nuova visione che metta insieme questi due aspetti e che cerchi di portare degli aspetti nuovi, delle iniziative nuove, dei concetti nuovi, dei modi nuovi di affrontare i problemi complessi verso cui ci troviamo confrontati ogni giorno. Quindi non più, o anzi non solo, aspetti specialistici di altissimo livello, ma a partire da quelli anche una visione più integrata e un dialogo tra concezioni, linguaggi diversi, che però tutti assieme possono contribuire a una migliore visione della realtà e a una migliore ricerca della qualità della vita e della partecipazione al nostro Paese e al mondo. Detto ciò, molto brevemente, avrete modo di vederlo nelle altre conferenze, è un piacere e un onore presentare il primo conferenziera, che oltre a essere un professore della scuola normale è un amico, è un grandissimo matematico, di per sé è maestro di grandissimi matematici, le due cose non sono affatto ovvie, perché unire capacità di fare ricerca e capacità non solo di insegnare, ma di lasciare volare i propri allievi per la propria strada dopo avergli insegnato a volare, scusatemi il volo pindarico, è una cosa che è estremamente non ovvia e non banale, perché richiede capacità, disponibilità e accettazione delle altre persone e accettazione della libertà di ricerca degli altri anche in maniera diversa da quello che uno gli ha insegnato. Questo lo dico facendo un mestiere simile a quello di Luigi, la difficoltà di accettare che quelli che noi abbiamo conosciuto come allievi, come ragazzi, eccetera, volino da soli e si confrontino con noi alla pari, se non in alcuni casi, non il suo, anche da un livello superiore è assolutamente molto molto complicato. Se uno poi unisce questo a un'attività di ricerca di altissimo livello, che è cominciata e continuata e che andrà avanti sicuramente per molti anni, anche perché Luigi, ahimè, è molto più giovane di me, quindi ha molto più margine davanti, capite bene che stiamo parlando di una persona e di uno scienziato di livelli elevatissimi. Infine sono molto curioso di vedere come Luigi riuscirà a raccontare una cosa di in principio abbastanza complicata come il trasporto ottimo a un pubblico sicuramente formato, ma non di tutti i matematici, ma per primo, per cui sono dei concetti e delle raffinatezze della matematica estremamente elevate che hanno sicuramente un numero di applicazioni molto importanti, anche da un punto di vista applicativo, perché in parte penso anche di avere una vaga idea di dove vanno a parare, ma raccontate unendo assieme il rigore e la comprensibilità. E questo, diciamo, e qui mi fermo, è un elemento che riporta quello che ho detto prima, essere capaci di unire assieme la ricerca di alto livello e la formazione e la disponibilità a formare le persone. E questo mi sembra uno dei migliori esempi di quello che la scuola normale dovrebbe rappresentare. Quindi, senza dire altro, lascio la parola a Luigi ringraziandolo di questa conferenza. Molte grazie. Grazie. Bene, allora aspettiamo un attimo che partano le slide. Ecco, allora l'occasione di questa conferenza è nata da una notizia recente, di cui probabilmente molti di voi hanno già sentito parlare. Il primo agosto di quest'anno Alessio Figalli, un nostro ex allievo, è stato allievo del corso ordinario dal 2002 al 2006, quando già il percorso era quinquennale, quindi coprendo tutto il percorso in quattro anni, e poi il percorso dottorale in un solo anno, è stata insegnata della medaglia Fields, che come sapete è l'equivalente del Nobel della matematica, viene attribuito a matematici under 40, ogni quattro anni, in occasione del Convenio Mondiale di Matematica, vengono assegnate al più quattro medaglie Fields, quest'anno Alessio ha avuto una delle quattro, con questa motivazione, ecco, l'ho tradotta dall'inglese, per i suoi contributi alla teoria del trasporto ottimo, alle sue applicazioni all'equazione delle derivate parziali, alla geometria metrica, alla probabilità. Ora, in questa chiacchierata cercherò di spiegare almeno alcune di queste parole, almeno alcune delle motivazioni che stanno alla basse di questo premio, dei suoi contributi. Questa è una foto di Alessio dal libretto normalistico, che tra l'altro ho notato che non è stato firmato, quindi non credo che invaliderà il suo diploma, ma insomma, questo è Alessio oggi, 15 anni dopo circa, è docente ormai da più di due anni al Politecnico di Zurigo. Ecco, colgo l'occasione per dire che ora a gennaio stiamo organizzando molto intensamente, proprio in questi giorni, un convegno per festeggiare questa notizia qui alla scuola normale, sarà appunto nella prima metà di gennaio, insieme al Dipartimento di Matematica, all'Unione Matematica Italiana. Parlando un attimo di trasporto ottimale, poi entreremo più nei dettagli, la scuola normale e anche il gruppo di ricerca che abbiamo in Dipartimento sono uno dei centri di eccellenza al mondo per la ricerca in questo campo. e tra poco meno di un mese avremo il nono convegno, organizziamo un convegno una volta ogni due anni, iniziamo proprio intorno all'anno 2000 quando c'è stato il secondo boom del trasporto ottimale di cui vi racconterò e questa tradizione sta continuando molto bene, tra i massimi esperti al mondo parteciperanno a questo convegno. Ecco, ora il formato di queste conferenze mi è stato detto che prevede che il conferenziere dica qualcosa di sé, io un po' mi adeguo alle regole, ho condensato il mio CV in sole tre righe, quelle che ritengo più significative, sono stato allievo della scuola, anche del corso di perfezionamento, poi ho girato in varie università da cui ho appreso molto, varie collaborazioni che poi sono continuate e poi mai avrei aspettato di poter ritornare alla scuola circa vent'anni fa come docente e sono ancora qui. Bene, in questa occasione non posso non citare, parlare un attimino anche di Ennio De Giorgi che è stato il mio maestro, Ennio De Giorgi è stato docente alla scuola per quasi 40 anni, dal 59 al 96, era titolare di una cattedra con un nome bellissimo, ora purtroppo i nomi delle cattedre sono molto più prosaici, analisi matematica, algebrica e infinitesimale, che era perfettamente adattata su di lui come titolo, e il suo ambito di ricerca, che poi è anche il mio, è il calcolo delle variazioni, e anche il problema del trasporto ottimale del quale vi parlerò rientra in questo quadro ampio del calcolo delle variazioni, quindi spenderò un po' di tempo anche a parlarvi del calcolo delle variazioni classico. Ecco, ho selezionato qualche foto di Ennio De Giorgi, ho molto materiale su di lui, in particolare in alto a sinistra vedete il De Giorgi che io ho conosciuto quando sono arrivato alla scuola come allievo, aveva circa l'età che ho io adesso, poi c'è una foto che mi piace molto, a fianco De Giorgi durante una lezione, in un suo atteggiamento molto tipico, non so se i matematici riescono a distinguere una formula a cui lui era affezionato moltissimo, presentava veramente a tutti gli studenti che è la formula per la misura di Hausdorff, e poi ci sono in basso due foto di pochi anni prima della morte, questo è un incontro che ci fu a sinistra, avete un incontro che ci fu a Trento con John Nash, e poi a destra anche una foto a cui sono molto affezionato perché è proprio ripreso in un atteggiamento tipico nel suo studio, seduto nella poltrona, molto concentrato, con questa montagna di carte sul tavolo, io ho speso moltissime ore in questo ufficio, ovviamente ne sono stato ben ripagato. Bene, adesso passiamo dal passato, diciamo da questo bellissimo passato, anche se volete al presente e al futuro, questa è una fotopressa proprio al congresso di Rio, il giorno stesso della cerimonia di premiazione, ed è un bel successo devo dire per la scuola normale, perché tre normalisti a vario titolo sono stati invitati al convegno, non credo che sia mai capitato in realtà, c'è Alessio, ho invitato come titolare della medaglia Filz, c'è stato io, c'è un altro ex allievo della scuola, Guido De Filippis, che ora è professore alla Sissa, che ora andrà, probabilmente si trasferirà negli Stati Uniti, e poi abbiamo un altro grande matematico di qualche anno più grande di me, Luis Caffarelli, che è molto legato anche lui a De Giorgi, che è stato invitato al convegno mondiale di matematica proprio per illustrare, per fare la cosiddetta laudazio, illustrare i lavori di Alessio che gli hanno valso la medaglia Filz. Bene, adesso passiamo alla parte più, come dire, matematica o più formale di questa presentazione, l'ho articolata in queste parti, appunto intanto volevo un po' raccontarvi il calco delle variazioni classico, come è nato il problema esoperimetrico e il problema della brachistocrona, e vedremo che c'è un filo diretto che porta questo problema classico a De Giorgi, e da De Giorgi alla fine, quello sarà il paragrafo 5, a uno dei lavori più importanti di Alessio. Poi appunto vi racconto un po' il problema di Monace Cantorovic, del trasporto ottimo di massa, vedremo quanto tempo ha a disposizione, certamente vi parlerò della versione discreta e della versione duale, che si raccontano molto bene senza grossi prerequisiti di matematica, vedremo quanto tempo spendere sul trasporto ramificato. Infine vorrei almeno dare l'idea del perché, un po' all'uso anche a questo il direttore all'inizio, perché la teoria del trasporto ottimo sta diventando così fondamentale, e in particolare voglio illustrare questo concetto, che è veramente un concetto chiave, quello della, non c'è un termine italiano per questo concetto, comunque nella letteratura si chiama displacement interpolation, e vi racconterò appunto il problema risolto da Figalli, in collaborazione da Maggi e Pratelli, un grandissimo raffinamento della disuguaglianza superimetrica. Allora, quindi partiamo un po' col calcolo delle variazioni. Il calcolo delle variazioni è una branca della matematica che è nata sostanzialmente nel XVII-XVIII secolo, con contributi importanti di Fermat, Eulero, Bernoulli, Lagrange, che studia problemi, problemi complicati, diciamo, di massimo e di minimo. Per illustrare, diciamo, il livello di complicazione potremo procedere in questo modo. Partiamo da, ovviamente, i problemi che quasi tutti hanno studiato, almeno chi abbia fatto studi scientifici, liceali, scientifici, problemi di massimo e minimo per funzione di una variabile. Da questo si passa abbastanza facilmente, anche se già questo è un salto logico non banale, computazionalmente, a problemi con un numero finito di variabili. Ad esempio, un problema abbastanza semplice è tra tutti i poligoni piani con n vertici e di perimetro assegnato si determina quello che racchiude un'area massima. Allora, questa figura che ho fatto io un po' manualmente, chiaramente non è la soluzione, perché potete immaginare che schiacciandola un pochettino mantenete il perimetro costante e aumentate l'area. E più o meno con ragionamenti abbastanza elementari di questo genere vi rendete conto che la figura ottimale, la figura che risolve questo problema, è il poligono regolare che ha quel dato perimetro e ha annelato i punti uguali. Qui questo è un problema già, se avete n vertici e il poligono è piano, è un problema già con 2n gradi di libertà. Quindi siamo passati da una variabile sostanzialmente a 2n variabili, quelle che vi descrivono la posizione dei vertici. Però in realtà questa è la versione discreta di un problema classicissimo, che è il problema isoperimetrico. quindi vediamo di descriverlo. Allora nasce da una leggenda, la leggenda è che appunto questa regina fenicia per il suo popolo ebbe a disposizione da re locale tanta terra quanta sarebbe riuscita a contenere nella pelle di un bue. Allora Didone appunto non si scoraggiò e cercò di ottenere il perimetro massimo tagliando questa pelle in striscioline molto sottili e poi si poneva il problema ovviamente con questo perimetro di racchiudere una regione di area massima. Quindi non più poligoni, ma qualsiasi regione. Allora è chiaro che, ecco quindi questa se volete è la formulazione un po' più formale, ma ancora non del tutto formale del problema, quindi assegnato un perimetro, qual è la regione del piano di area massima con quel dato perimetro? Allora vedete che qui c'è un salto concettuale importante, perché qui abbiamo a che fare con infinite variabili, infiniti gradi di libertà, perché per descrivere una figura è fatta da infiniti punti. Quindi c'è un enorme salto di difficoltà nel passaggio dai problemi precedenti a questo. Sappiamo oggi, poi una piccola storia ve la dirò, che l'unica figura ottimale da questo punto di vista è il cerchio, questo problema ha un'unica soluzione, unica ovviamente a meno di traslazioni, potete traslarlo, spostarlo dove volete, ma geometricamente l'unica soluzione è il cerchio e naturalmente si può passare subito a problemi un po' più complessi. Ad esempio potete passare dal problema piano al problema nello spazio, nello spazio fisico, quindi sostituite area racchiusa con volume racchiuso, perimetro con area superficiale e da capo la soluzione è la palla, la sfera se volete tridimensionale. Ecco, in realtà però già qui il livello di complicazione aumenta molto e aumenta ancora di più se ponete il problema non in tre dimensioni spaziali, ma in quattro, in cinque e così via. E se volete, dal punto di vista della matematica, del livello di rigore comunemente accettato oggi in matematica, la prima soluzione veramente completa di questo problema classico è venuta proprio con il lavoro di De Giorgi nel 1958, un anno prima di arrivare qui alla scuola. Allora, uno potrebbe obiettare che il risultato in fondo è abbastanza ovvio, almeno se lo riformulate in termini di tenere fisso il volume all'interno e minimizzare l'area superficiale, perché uno potrebbe dire, in fondo, diciamo una bolla di sapone è soggetta alla tensione superficiale, il volume all'interno della bolla è costante, quindi è chiaro che la fisica ci dice che la soluzione è la palla. Però, diciamo, con questi ragionamenti qualitativi non si va molto lontano, in particolare sul problema di trasporto ottimo, non si va quasi da nessuna parte, come vedremo. Vediamo un altro problema classico di calcolo delle variazioni, la cui soluzione non è poi così scontata. Molti di voi ne avranno sentiti parlare, ma vediamo di richiamarlo, perché ha avuto un ruolo storico importante nello sviluppo del calcolo delle variazioni. Ed è il cosiddetto problema della brachistocrona. Allora, il problema in sostanza è quello di abbiamo due punti A e B posti ad altezze diverse, dobbiamo trovare una curva lungo la quale un punto materiale, rotolando senza attrito sotto l'azione della gravità, si muova ad A e B nel minimo tempo possibile. Allora, io ho disegnato la curva in nero, che chiaramente non è ottimale, è volutamente, diciamo, fatta così per stimolare la riflessione. La curva in rosso potrebbe far riflettere che magari potrebbe convenire fare così, cioè usare il prima possibile l'accelerazione di gravità, salvo poi recuperare quota alla fine. Qual è la curva migliore? Allora, non è una retta, con ragionamenti qualitativi si capisce molto velocemente. Galileo, ad esempio, pensava che fosse un arco di cerchio la soluzione di questo problema. Però, sostanzialmente, con ragionamenti qualitativi il problema non si risolve. E la soluzione, diciamo, intuita, anche se la dimostrazione di Bernoulli non è rigorosa per gli standard moderni, e venne trovata da Johan Bernoulli, che emulò l'azione della gravità pensando al percorso di un raggio di luce in un mezzo di densità ottica variabile, e intuì che la soluzione dovesse essere un arco di cicloide. Chiaramente è molto facile confondere un arco di cicloide con un arco di cerchio, quindi servono strumenti quantitativi per affrontare questo tipo di problemi. Questa branca della matematica, appunto, è calcolo alle variazioni, poi ha avuto un ruolo importante in meccanica, nella fisica, alla fine in meccanica anche quantistica, e nasce appunto con i lavori di Eulero, Lagrange, con il lavoro di Hamilton che geometrizza da capo la meccanica, e nella, diciamo, formulazione moderna si tratta, diciamo, nel problema di calcolo alle variezioni di minimizzare una quantità che viene chiamata azione, proprio il termine viene un po' dalla fisica, e ora non importa che voi, non importa interpretare quel simbolo, diciamo, si tratta di minimizzare una certa quantità che dipende da tutte le curve definite su un certo intervallo che abbiano estremi fissati. E la funzione L, appunto, viene chiamata in genere lagrangiana, proprio in onore al matematico Lagrange. Veniamo invece ora al problema del trasporto ottimo. Il problema del trasporto ottimo è antico, ma non così antico, nasce negli anni della rivoluzione francese con una celebre memoria presentata da Gaspard Monge all'Accademia delle Scienze Francese, e il titolo, appunto, è Memoire sulla teorie delle blè e dei ramblè. In sostanza, non ne darò una spiegazione molto formale, se non nelle parti successive, il problema di posto da mongere è estremamente pratico. Abbiamo una pila di terra, de blè, una buca, ramblè, come possiamo portare la terra nella buca svolgendo il lavoro minimo possibile. Nella nota di Monge, che vi mostrerò tra un attimo, lui pensava alla forza come proporzionale alla massa, a causa della forza di gravità, quindi possiamo pensare massa per spostamento nel problema. Tant'è vero che ora il nome che a volte viene dato a questo problema nella letteratura è anche heart mover distance, cioè il problema proprio del trasporto della terra, perché si è in mente proprio la formulazione iniziale di Monge. Questa è la famosa Memoria di Monge, ora qui riciclo una battuta di Villanee che fa sempre notare il numerino della pagina, 666. In realtà questo problema non ha niente di diabolico, semmai vedremo qualcosa di magico, come cercherò di farvi, cercherò di illustrarvi. Allora, vediamo un pochettino informalmente un po' qual è il problema, senza entrare troppo nei dettagli. Quindi pensate di avere questa pila e questa buca e immaginate di avere un piano di trasporto, quindi vuol dire una mappa che in qualche modo associa punti di X e punti di Y e naturalmente quest'operazione di spostamento, mettiamo che la pila e la buca abbiano uguali volume, quindi lo spostamento sia possibile, ci sono tanti modi di fare questa operazione di trasporto. Quello che sostanzialmente Monge si chiedeva è come farlo compiendo il lavoro minimo. Qui vedete comparire un integrale, ma potete pensare che sia una somma, voi state suddividendo la buca in tanti pezzettini, la pila, scusate, in tanti pezzettini, per ogni pezzettino decidete dove dovete andare e sommate tutti questi piccoli contributi. Ecco, la storia del matematica, diciamo del trasporto ottimale, è molto più complessa dello sviluppo che ha avuto la meccanica, quindi il calcolo delle variazioni classico, anche se questo è un vero e proprio classico problema di calcolo delle variazioni. L'interpretazione che do io di questo ritardo, di questa storia diciamo più tortuosa, è che sostanzialmente fino al XX secolo sono mancati gli strumenti adatti per studiare questo problema e sono sostanzialmente la teoria della probabilità, in particolare la formalizzazione di Kolmogorov, e la teoria della dualità. Infatti il punto di svolta per questa teoria si ha nel 1941 con un lavoro di un matematico russo, Kantorovic, è un personaggio molto interessante perché tra l'altro è il primo matematico ad aver vinto un premio Nobel in economia, poi abbiamo avuto qualche anno dopo, ora non ricordo l'anno esatto, John Nash, fino a solo due matematici hanno vinto un premio Nobel in economia, e lui è proprio per contributi legati in qualche modo alla teoria del trasporto ottimo e qui vengono introdotte una serie di idee centrali alle quali alluderò il trasporto generalizzato, la dualità, che intanto fanno affiorire questa teoria in molti campi, la probabilità, la programmazione lineare, l'ottimizzazione, la statistica, però le cose restano lì più o meno per vari anni, mentre la teoria si sviluppa un po' di per sé. Ecco, l'altro punto di svolta che ho un po' vissuto io proprio alla fine del XX secolo è, diciamo, grazie un po' alle intuizioni di alcuni pionieri, in particolare io vorrei citare Mekan, un matematico canadese di cui vi parlerò anche più avanti, Jan Brenier, un matematico francese, Felix Otto, un matematico tedesco, con motivazioni diverse. Felix Otto era interessato all'equazione dei mezzi porosi, Brenier era interessato a problemi di fluido-dinamica, Mekan ha disuguaglianze geometrico-funzionali, quindi qualcosa di molto vicino al problema esoperimetrico, tutti e tre più o meno hanno intuito, e in particolare direi il ruolo di Mekan come illustrerò il stato fondamentale, hanno intuito che il trasporto poteva dirci molto su ciascuno di questi problemi. E quindi c'è stata una propagazione velocissima a tanti altri campi della matematica pura e applicata. Tra l'altro, questo è un aspetto interessante un po' di storia della scienza, cioè succede in matematica, ma succede anche in molte altre scienze, che in qualche modo, a un certo punto, un'idea in qualche modo è nell'aria, non viene formalizzata chiaramente magari da nessuno, ma più o meno quasi contemporaneamente a queste persone arrivano a intuizioni molto simili che poi a posteriori riconosciamo essere quasi la stessa intuizione. E quindi il credito che io e tanti altri diamo è dato in uguale misura sostanzialmente, anche se diciamo forse Mekan ha una certa priorità. Allora, per evitare diciamo troppi prerequisiti matematici, vediamo qual è la versione discreta del problema di Mange. Allora, abbiamo diciamo nel piano n punti rossi e n punti blu e cerchiamo diciamo l'accoppiamento ottimale, questo si chiama proprio il problema del matching nella letteratura, tra punti rossi e punti blu che minimizzi, nel problema di Mange si minimizza il lavoro, quindi bisogna sommare, bisogna minimizzare, scusate, è saltato, non so cosa sia successo, è saltato moltissime slide, qui sta andando avanti, scusate, rovinerò la sorpresa, no, no, devo andare indietro, devo andare indietro, avevo invertito i tasti, allora, quindi cerchiamo l'accoppiamento ottimale, scusate, è proprio saltata una formula, non so che forse è stato un cambiamento all'ultimo momento, che renda minima, che renda minima, scusate, che renda minima la somma, diciamo, delle distanze tra il punto e il punto in cui viene accoppiato, tanto poi la formula ritornerà più avanti. Questa è una figura che ho fatto a mano, però il problema diventa molto interessante, ad esempio, anche in meccanica statistica, quando si considerano numeri molto alti di punti, questa ad esempio è una simulazione numerica fatta da un mio studente, con il quale Federico Stra, con il quale abbiamo studiato il problema per quantità molto alte di punti e ci si rende conto che è un problema molto complesso, come determinare questi accoppiamenti in maniera da minimizzare la somma di tutte queste distanze, si notano anche oscillazioni abbastanza violente, diciamo, negli accoppiamenti che è necessario fare e così via. Allora, qual è il contributo? Quindi questa è esattamente, se volete, la versione discreta del problema che ha posto Cantorovici, invece pensiamo a masse concentrate anziché a masse distribuite e quindi anziché pensare a una pila e una buca pensiamo a sorgenti e pozzi puntiformi. Bene, allora vediamo un attimo ora di chiarire qual è stata l'intuizione fondamentale di Cantorovici, tra l'altro anche questo è interessante per la storia della scienza, Cantorovici è arrivato a tutto questo senza conoscere il problema di Monge, solo due o tre anni dopo aver sviluppato questa teoria scopre che in realtà è un problema molto collegato a quello che lui aveva studiato e in realtà era stato proposto negli anni della rivoluzione francese. Allora, cosa dimostra Cantorovici? dimostra che il problema minimo, quindi il problema di Monge, in realtà si può formulare in un modo completamente diverso e questa è la chiave della dualità. Quindi si cerca di massimizzare queste somme, quindi osservate che ho scritto le somme nella forma B1-R1, B2-R2 e così via, ma potete riarrangiarle come volete, quindi la somma di Φ su tutti i punti blu, quindi Φ può essere pensata come una funzione definita sui soli punti blu, meno la somma delle Ψ su tutti i punti rossi, però non al variare di tutte le coppie possibili, altrimenti il problema si analizzerebbe, ma sulle coppie per cui di Φ, per cui Φ di B con I meno Ψ di Rj è più piccolo della distanza di B con I tra Rj, queste le chiameremo coppie ammissibili. Allora, qual è l'interpretazione di questo risultato? Sembrerebbe una cosa un po' arcana, no? Ho tradotto il problema in un problema molto diverso, dov'è l'utilità di aver fatto questa traduzione? Beh, un esempio molto popolare che illustra, alla base poi anche della programmazione dinamica, che illustra l'utilità di questo concetto è questo. Immaginiamo che l'insieme dei punti, tutto l'insieme dei punti rossi e blu, sia un consorzio di produttori e consumatori, ad esempio bar e pasticcerie. Il problema del consorzio ovviamente è quello di minimizzare il costo di trasporto dai luoghi di produzione ai luoghi di consumo. Immaginiamo che una compagnia di servizi si presenti al consorzio e dica va bene io posso comprare da te da ognuna delle pasticcerie al prezzo psi di rj non so i cornetti le torte quello che è di rivendere poi lo stesso oggetto al bar b con i al prezzo fi di b con i. Allora la condizione che abbiamo visto prima la condizione di ammissibilità su fi e psi esprime il fatto che questa coppia di funzioni fi e psi che hanno il significato di prezzi deve essere competitiva cioè se quella di sguaglianza non vale chiaramente il consorzio dirà me lo trasporto per conto mio e ci guadagno quindi la scelta dei prezzi deve essere competitiva rispetto ai costi di trasporto del consorzio e allora però chiaramente dal punto di vista della compagnia il problema è quello di massimizzare il ricavo che è esattamente quello che compare nella formulazione di Kantorovic quindi la compagnia scegliendo in maniera il più possibile smart prezzi competitivi deve massimizzare il suo ricavo allora cosa ci dice il teorema di Kantorovic ci dice che per la compagnia esiste un modo di determinare i prezzi in maniera tale che il ricavo sia il minimo costo di trasporto del consorzio e quindi cosa vuol dire che se la compagnia per sue ragioni ha strumenti più efficienti di trasporto rispetto al consorzio ricaverà da questa operazione un margine di guadagno ok questa è un'applicazione se volete semplice alla teoria economica ecco un altro una variante anche molto bella che illustra un po' anche la ricchezza di questa teoria è il cosiddetto trasporto ramificato quindi spendo un attimo qualche parola su questo allora partiamo un po' dal problema di Steiner il problema di Steiner è un altro problema classico di calcolo delle variazioni nel quale uno ha segnato un certo sistema di punti in questa figura abbiamo sei punti e cerca il collegamento di minima lunghezza tra questi sei punti allora quello che succede è che nel risolvere questo problema nascono diciamo in maniera naturale dei punti aggiuntivi che vengono chiamati punti di Steiner lì in quella figura vedete quattro punti di Steiner e quella è la rete diciamo di lunghezza minima qual è il collegamento non sono esattamente lo stesso problema perché qui minimizziamo la lunghezza nel problema di trasporto vogliamo ci preoccupiamo di trasportare massa beh però c'è un collegamento perché diciamo immaginate che la massa in A sia maggiore della massa che c'è in B e in C tra l'altro questa è stata una delle intuizioni di Kantorowicz che è conveniente rispetto a quello che pensava Monge è conveniente spezzare la massa quando questo può ridurre i costi di trasporto se la massa in A è maggiore della massa in B e in C è obbligatorio spezzare la massa allora uno può decidere però in qualche modo di creare una stazione intermedia di diramazione e non diramare la massa sin dall'inizio bene questo è quello che in letteratura si chiama trasporto a V contrapposto diciamo al trasporto a Y allora qual è il collegamento tra il trasporto ramificato e il problema di trasporto ecco qui si inizia a capire ecco qui avevo preparato anche qualche figura ovviamente di strutture di trasporto reali un fiume credo che sia il rio delle Amazzoni diciamo strutture biologiche questa invece è una figura che illustra il modo ottimale di trasportare massa da una sorgente puntiforme al centro del quadrato distribuirla in maniera uniforme su tutto il quadrato allora qual è il collegamento beh qui si capisce una una delle ragioni importanti della ricchezza della teoria del trasporto è che uno può decidere di non minimizzare il lavoro ma ci sono tante altre cose che può minimizzare e questo porta a tante altre applicazioni utili della teoria del trasporto ad esempio per produrre il trasporto ramificato si minimizza una quantità di questo tipo quindi vedete c'è sempre la lunghezza la lunghezza di ogni ramo del grafo ma la portata diciamo pensate proprio al trasporto di un fluido lungo questa struttura ma la portata di ogni ramo viene pesata con un parametro alfa quindi viene elevata a una potenza alfa e tra l'altro l'intuizione che questa potesse essere la formulazione giusta è venuta proprio da un ingegnere delle telecomunicazioni lavorava per i Bell Laboratories nel 67 molto prima che i matematici poi studiassero in termini rigorosi e inquadrassero in termini di teoria del trasporto questo problema e allora diciamo in qualche modo uno può produrre strutture ramificate di trasporto proprio minimizzando questa nuova quantità e non più semplicemente il lavoro quindi potete pensare che questo parametro alfa regoli il tasso di ramificazione si passa dal caso limite alfa uguale 1 nessuna ramificazione al caso di Steiner alfa uguale 0 massima ramificazione e se volete in quei disegni che vi ho fatto vedere prima uno potrebbe cercare di calcolare empiricamente sulla base di questo principio il tasso l'esponente alfa questo parametro come dire interno al sistema bene adesso mi avvio un po' sulla parte un po' finale della conferenza dove magari è un pochettino più matematizzata ma non troppo quello che vorrei spiegare quindi diciamo abbiamo queste aree di ricerca che sono state influenzate in alcuni dei casi già molto profondamente dall'atelio del trasporto ottimo in particolare le prime tre sulle quali tra l'altro la scuola normale appunto a Pisa il gruppo di ricerca anche in dipartimento ha lavorato molto quindi disuguaglianze funzionali l'esempio è la disuguaglianza isoperimetrica geometrico funzionali equazione delle derivate parziali geometria degli spazi di misura questo è un argomento più tecnico di cui non vi parlerò iniziano a emergere tante applicazioni anche in finanza in computer graphics questo lo vediamo tra un attimo sempre più lavori collegano la teoria del trasporto al machine learning e così via allora ho cercato di nucleare quella che secondo me è l'idea è una delle idee fondamentali di questo successo alla base di questo successo ed è il problema dell'interpolazione tra densità di probabilità quindi supponete di avere due densità di probabilità pensate ad esempio anche se quella figura non rende molto l'idea ad esempio due due distribuzioni a campana due gaussiane un problema tipico per varie ragioni numeriche teoriche e così via è quello di trovare in qualche modo un cammino un percorso continuo che mi porti da una distribuzione di probabilità all'altra quello che in matematica si chiama interpolazione quindi pensate a t come una variabile temporale al tempo 0 sono su una densità al tempo 1 sono su un'altra voglio trovare in qualche modo un cammino continuo che mi porti dall'una all'altra allora ci sono due punti di vista in concorrenza che poi alla fine si possono conciliare ma questo richiederebbe più lavoro però diciamo apparentemente in concorrenza tra loro quello tradizionale pensa alle densità in realtà come due singoli punti in uno spazio che però inevitabilmente ha infinite dimensioni che è lo spazio di tutte le densità di probabilità allora pensandole come due singoli punti uno interpola proprio con il segmento quello che ho scritto lì è il segmento che porta da fi 0 a fi 1 questo modo interpolare è utilissimo non lo voglio sottovalutare è utilissimo per milioni di applicazioni però ad esempio è un inconveniente ad esempio se avete due gaussiane il cammino intermedio non sarà affatto di gaussiane quindi può distruggere proprietà anche molto importanti qual è invece il punto di vista basato sul trasporto ecco nell'altro punto di vista il ruolo dell'infinito viene spostato perché si pensa alle densità proprio nella maniera più intuitiva possibile come nuvoli di infiniti punti nello spazio fisico e sono questi i punti che vengono spostati con continuità e questo è il concetto di displacement interpolation allora ora non scrivo la formula ora la vedrete nelle slide successive perché naturalmente richiede più matematica per essere compresa però mi sono fatto prestare cioè mi sono fatto gentilmente un ricercatore della scuola normale di Parigi molto bravo più giovane sulla quarantina che ha lavorato molto sul trasporto ottimale sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista numerico mi ha dato queste tre slide o meglio ho selezionato dalle sue slide queste tre ecco qui si inizia a vedere come diciamo pensate alle densità di probabilità come figure o come oggetti geometrici si possono pensare in tanti modi possibili con il trasporto ottimale spostando i punti io posso in qualche modo ad esempio interpolare in maniera molto efficace tra immagini cioè cercare ad esempio di trasformare quella stella quella figura stella in quella in quel toro con due buchi o così via quindi risulta diciamo un algoritmo molto efficiente si traduce in algoritmi molto efficienti per ad esempio per l'elaborazione delle immagini ecco qui trovate proprio un'altra slide che mi ha dato Pere c'è la formula ma non importa diciamo il concetto importante da assimilare è che come vedete i punti si spostano con continuità seguendo le regole e con velocità costante seguendo le regole del trasporto ottimale ad esempio in quella figura lì se volete trasformare il cerchio pieno rosso in due cerchi blu distanti tra loro pensatele appunto come nuvola di punti istantaneamente iniziano a separarsi e poi con continuità diciamo si iniziano a muovere verso la destinazione finale questo dà luogo a un modo diciamo estremamente efficace e fecondo sia sul piano teorico che applicativo di effettuare l'interpolazione e qui avete appunto la foto di Robert McCann questo matematico canadese di cui vi ho parlato tra l'altro appunto è importante osservare che questa filosofia si traduce anche in schemi numerici molto diversi il punto di vista tradizionale corrisponde al punto di vista euleriano il punto di vista nuovo o almeno abbastanza nuovo è il cosiddetto euleriano è quello in cui uno discretizza nello spazio delle traiettorie e non nello spazio delle densità bene allora adesso vorrei veramente chiudere gli ultimi 5 minuti dandovi un'idea del contributo diciamo uno dei contributi sicuramente determinanti di Alessio e in questo caso con due collaboratori Aldo Pratelli e Francesco Maggi per la medaglia a filz quindi ripartiamo dal problema essoperimetrico allora il problema essoperimetrico ricordate ci dice tra tutte le figure di area fissata l'unica di perimetro minimo è il cerchio allora essendoci un'invarianza di scala in questo problema conviene normalizzare le aree e normalizziamo le aree in maniera che il cerchio abbia raggio 1 allora possiamo riformulare questo problema che tra tutte le figure di area pi greco la lunghezza e tra tutte le figure s di area pi greco la lunghezza del perimetro è sempre più grande di 2 pi greco e vale l'uguaglianza se e solo se s è un cerchio unitario in posizione naturalmente arbitraria questo se ci riflettete è già un enunciato quantitativo ma non completamente perché non lo è nella parte di unicità della soluzione cioè ci si può chiedere questo diventa un problema molto importante in questioni di stabilità comportamenti asintotici e così via che cosa succede se io so che la lunghezza è molto vicina a essere quella minimale quindi se questo parametro delta è l'equadro di s meno 4 pi greco quadro è molto piccolo ma non è nullo se è nullo sappiamo che è il cerchio naturalmente dal punto di vista euristico ci aspettiamo che s sia molto vicina a un cerchio ma tutto il problema è cercare di esprimere la questione e poi risolverla in termini quantitativi allora un modo quantitativo di esprimere la vicinanza tra figure molto usato in probabilità in vari campi è di dire beh io misuro la distanza degli insiemi prendendo l'area della differenza simmetrica lì avete due insiemi a e b supponete che abbiano area due figure a e b supponiamo che abbiano area 2 pi greco queste sono molto distanti la loro distanza è quasi 2 pi greco perché l'area della regione dei punti che sono in A e non sono in B o sono in B e non sono in A quindi calcolando l'area in giallo uno ha un'idea della vicinanza dei due insiemi e quindi usiamo questo come misura della distanza dei due insiemi e questo porta all'introduzione di queste due quantità chiave una appunto l'abbiamo già introdotta prima il cosiddetto deficit isoperimetrico mi dice quanto dista il perimetro da essere quello minimale stiamo sempre lavorando con figure di area pi greco e l'altro io devo vedere il cerchio che meglio si sovrappone alla mia figura quindi introduco questa quantità che è chiamata indice di asimmetria circolare è la minima area di tutte le differenze simmetriche che posso fare tra la mia figura e i cerchi di raggio 1 allora il risultato di di Figalli Maggi e Pratelli dice che c'è un modo quantitativo di dire di controllare le due cose cioè se delta è piccolo in termini quantitativi possiamo dire che la simmetria è piccola il risultato è ottimale cioè c'è questa dipendenza diciamo questa è proporzionale alla radice quadrata del 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 deficit isoperimetrico e diciamo qual è l'idea proprio l'idea di partenza di questa dimostrazione naturalmente la dimostrazione contiene dentro un sacco di altre idee anche molto profonde non basta molte volte avere l'idea iniziale poi tradurre queste idee in una dimostrazione lo so perché l'ho vista nascere questa dimostrazione ha richiesto molte settimane di lavoro però l'idea iniziale è sempre quella è che col trasporto ottimo io ho modo canonico di deformare le figure l'una nell'altra di trasformare quindi prendiamo una figura di area pi greco cerco di deformarla nel cerchio e cerco di capire che cosa succede nel frattempo in termini quantitativi naturalmente per come ve l'ho enunciato volendo semplificare in una conferenza generale il risultato che vi ho scritto per figure nel piano era già noto però qual è la novità veramente notevole del lavoro di questo lavoro la prima forse poteva essere abbastanza attesa che il risultato valesse non solo in dimensione 2 ma anche in qualsiasi numero di dimensioni spaziali nello spazio in ogni numero di dimensioni ma la cosa veramente sorprendente è che questa tecnica si è rivelata talmente flessibile da poter trattare anche le cosiddette energie di superficie anisotrope allora spiego un attimo cosa vuol dire voi potete pensare che nel problema essoperimetrico la densità di energia superficiale dipende anche dall'orientazione della superficie e questo effettivamente è un problema di rilevanza di grande rilevanza applicativa compare nella cristallografia il cosiddetto problema di Wolff la tensione superficiale dei cristalli dipende dall'orientazione compare in molti modelli di meccanica statistica ad esempio nella teoria di Ising e allora per ogni energia anisotropa uno ha un problema isoperimetrico e la soluzione di quel problema non sarà in generale il cerchio ad esempio questa è una figura che non so perché è scomparsa accidenti scusate vediamo se la faccio comparire no era un cubo o traedro non so perché forse nell'ultima correzione che ho fatto è scomparsa comunque potete pensare che qualsiasi figura o immaginate in realtà qualsiasi poliedro convesso il cubo anche poliedri non regolari purché siano convessi sono sempre la soluzione di un opportuno problema isoperimetrico per un'opportuna energia superficiale ovviamente anisotropa non dipendente dalla direzione e quindi fatto veramente stupefacente di questa tecnica introdotta da Figali Maggi e Pratelli e che non solo risolvono il problema classico la versione quantitativa era aperta da vari decenni quindi questo è un raffinamento incredibile della disuguaglianza esoperimetrica ma funziona anche in contesti molto più ampi di quelli che inizialmente si potevano sperare allora vi ho preparato per chi può essere interessato ad approfondire alcuni link utili questa è la pagina Wikipedia di calco delle variazioni quella in italiano è molto molto sintetica quella in inglese è fatta molto meglio poi chi fosse interessato al problema della brachistocrona può guardare un bellissimo video tutorial che ho trovato su YouTube per chi fosse interessato un po' alla storia del problema esoperimetrico anche ad alcune dimostrazioni elementari del problema esoperimetrico nel piano ho trovato sempre online una bella dispensa scritta da un dottorando dell'università di Napoli si chiama Di Meglio e infine poi è anche utile guardare quello che ha scritto Alessio su questi argomenti Alessio ha scritto un articolo per scienza in rete sul trasporto ottimale e anche un articolo divulgativo sulla stampa questo proprio dopo aver vinto cioè è uscito un articolo divulgativo sulla stampa dopo che Alessio ha vinto la medaglia e penso di potermi fermare qui se qualcuno vuole le slide scrivetemi grazie 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 al professore Ambrose per questa bella prima conferenza di Visions e un brevissimo annuncio c'è un rinfresco offerto per tutti dopo le domande e adesso la parola a voi se avete le domande o se era tutto chiaro non lo so forse mi sape di tornare la cosa con i link se qualcuno ah giusto hai ragione hai ragione ottimo però l'hanno tolta forse si può rimettere i link perché se qualcuno li vuole copiare ah sì sì possiamo mettere momentaneamente la presentazione se lo traducessi diciamo in un linguaggio per me più familiare direi che quello che uno sta facendo qui dentro sta trovando l'estremizzazione di un funzionale con dei moltiplicatori di Lagrange opportuni che fissano la cosa e questo porta a delle equazioni differenziali questo è la tecnica tra l'altro i prezzi si interpretano come moltiplicatori di Lagrange quindi questo porta a delle equazioni differenziali adesso nel passare quindi praticamente passare da quel sistema interpolante con un parametro T da 0 a 1 a questo sistema significa fondamentalmente introdurre un'equazione differenziale che fa questo oppure ora entro magari un po' più nei dettagli tecnici non è una domanda porta a una reinterpretazione anche di equazioni classiche cioè non è che tanto si inventano equazioni nuove ma persino l'equazione del calore questa è stata l'intuizione di 8 viene vista in maniera completamente nuova viene vista come il modo di dissipare l'entropia meno l'entropia perché va bene voi fisici noi invertiamo il segno rispetto a voi quindi come dissipare meno l'entropia il più velocemente possibile rispetto alla metrica del trasporto quindi è un'interpretazione probabilistica dell'equazione del calore per certi versi molto più fondamentale perché si torna a pensare le probabilità come nuvoli di punti e non più come funzioni cioè non dico che il punto di vista funzionale sia sbagliato figuriamoci tutta l'analisi funzionale però non è l'unico punto di vista poi suppongo che la discretizzazione sia quello che consente le applicazioni sul computer di questo esattamente infatti quella slide che ho preso proprio da Pere lui ha studiato dal punto di vista numerico gli schemi lagrangiani basati proprio su questa idea sì sì dalla domanda che mostra mia completa ignoranza ma mi domando se a parte le interazioni fra i costituenti di questi oggetti che per esempio sono inclusi dentro a un isoperimetro si può applicare questo tipo di considerazioni al caso che ci siano dei campi esterni che agiscono e non solo interazioni fra l'insieme al quale si applicano certamente cioè diciamo ad esempio tu puoi studiare diciamo l'equazione di Fokker-Planck quindi diffusione trasporto puoi aggiungere termini di interazione tutto questo in qualche modo può essere interpretato come un flusso gradiente quindi un'equazione di evoluzione rispetto a questa nuova geometria però quindi diciamo in un certo senso lo dico in maniera molto informale lo spazio delle misure di probabilità non è più piatto ma è curvo anche se lo spazio di base lo spazio clideo è piatto lo spazio delle misure di probabilità risulta curvo positivamente tra l'altro perché viene interpretato in maniera geometrica cioè questa interpolazione avviene lungo le geodetiche di una metrica che induce una curvatura positiva anche se lo spazio ambiente è una curvatura nulla e ora tra l'altro ultimamente non ho fatto in tempo ad assorbirli sono emessi anche dei lavori che guardano a questo dal punto di vista della relatività cioè interpretare un po' questa filosofia del trasporto lungo le geodetiche in spazi di Lorenz però questa è proprio questione lavori usciti due tre mesi fa quindi è un settore grandissimo fermento sembra che non ci siano altre domande e allora ringraziamo di nuovo il professore Ambrosio grazie